Scusa, potrei avere un succo la pesca? Scusa? In questo punto mi sembra vuota, manca qualcosa, non decolla. In questo punto mi sembra vuota, manca qualcosa, non decolla. E voi mi aiuterete? Sarò nobadi per un'ultima volta. Per Nicole. E voi mi aiuterete. Sai che ti dico? Sono stupo di non essere creduto da te. Se non ti fidi chiudiamola qua. Sai che ti dico? Sono stupo di non essere creduto da te. Se non ti fidi chiudiamola qua.